buongiorno a tutti oggi vi faremo vedere se funziona oppure no una crema famose creme che girano su internet quelle nere per punti neri ma non vi faremo vedere se funziona quella originale da 38 euro bensì bensì se funziona quella da un euro che abbiamo trovato sul portale wish l'analoga poi vi faremo sapere anche com'è anzi ve lo faccio vedere subito questa qui ok andiamo all'applicazione girati girati come vedete sto facendo da cavia perché ora oggi è arrivata la crema contro i punti neri cinese che per risparmiare abbiamo preso quello da un euro e chiaramente la cavia sono io ci mancherebbe altro la proposta di me anche io avrei fatto lo stesso con te lo so grazie bene adesso aspettiamo i risultati di quest'ottima crema cinese facciamo vedere le istruzioni abbiamo abbiamo visto abbiamo visto quella buona su internet costata 16 euro no ma cazzo 38 ma perché vedi se c'è qualcosa l'analoga abbiamo trovato una da un euro sul sito strano però è arrivata vedremo si lo so petro mamma cosa sta succedendo a papà è diventato un cane anche lui bene sono passati 15 minuti scusate per il capello però sono passati 15 minuti da quando abbiamo fatto l'applicazione come vi ho detto è una crema per venti neri economica forse un po troppo economica chiaramente la mia fidanzata mi ha usato la cavia siamo pronti per toglierla se si toglie prego è un video demo in cui stiamo provando una pomata che poi vi consiglieremo oppure no vediamo se vengono via i punti neri o se aumenteranno i blufoli già che si sta staccando una grande giacchi si sta staccando una grande cosa che c'è aspetta aspetta eh no no aspetta questa mettiamola questa mettiamola la staccata qua che è ancora un po' liquidino ti sono non non lasciamo agire l'altro po' ch zitto per ora nessuna ombra di punto nero in vista non sembra ci sia forse se costava un euro un motivo ci sarà che bello ma secondo me io non la provo vabbè faremo una seconda prova facendola stare 30 minuti anziché 15 non viene via ops ops non viene via forse dal basso viene via forse dal basso viene via ma chi lo sa lo scopriremo tra 20 minuti no bene forse inchiostro di seppia venduto per crema per centineri non si stacca cazzo non si stacca no aspetta ecco ecco zitto eh zitto zitto non perdete la pazienza tranquilli subito a giudicare l'euro di nero di seppia come siete frittrosi prevenuti vero perché è una cosa cinese non è che alla fine tutte le cose che fanno in cina sono cattive alla fine attenzione sta venendo via chissà quanti punti neri incontreremo sotto attenzione il momento della verità no qualcosa c'è attenzione qualcosa c'è attenzione fai ferma facciamo vedere ai telespettatori di youtube qualcosa c'è guarda hai visto guarda guarda ci sono guardiamo le guarda ci sono attenzione sì ma controlliamo il mio naso piuttosto ci sono ancora su il mio naso il naso c'è il naso c'è ancora naso c'è ancora no no lì c'è tutti i peletti ci sono tutti i peletti ci sono come c'è ti metto devo tirare i punti neri non i peletti no vabbè sembrano tipo peletti però ecco guarda ci sono ci sono attenzione possiamo allora dirvi che questa crema qui un euro comprata un euro su un sito del quale non ricordiamo il nome questa ma che bello funziona quindi potete evidentemente comprare anziché quella da 38 euro questa da un euro che si chiama Pilaten eccola la confezione ok quindi ho fatto la cavia per tutti voi vi ringrazio ci sentiremo la prossima volta quando proveremo un altro prodotto da 0,50 centesimi ciao a tutti i risparmiatori in ascolto ciao a tutti i risparmii